Todino, una certa continuità di risultati, la avete acquisita, tre utili nelle ultime tre partite, sette punti e adesso c'è la partita di Recanati, la prima del nuovo anno, che coincide con il girone di ritorno. Cosa aspettarsi da questo girone di ritorno? A volte sono anche un campionato a sé stante. Sì, diciamo che in tutti i campionati i gironi di ritorno sono sempre più difficili, perché ci sono parecchie squadre che devono salvarsi, chi deve vincere e chi deve lottare per i play-off, quindi le ultime partite di ritorno sono quelle più difficili e importanti su questo aspetto per la classifica. Però noi stiamo lavorando per portare continuità alle ultime partite che abbiamo fatto e arrivare sicuramente ai play-off perché la classifica è corta. Ecco appunto la classifica è corta, facciamo il punto sul campionato, in vetta sembra davvero ben avviata la San Benedettese verso la Lega Pro, ovviamente il più otto è un vantaggio davvero consistente, mentre dietro nei play-out ci sono tante squadre che cercano anche di scamparli, tra questi c'è la Recanatese e neanche il Campobasso è così lontano dagli stessi play-out, quindi c'è Bagarre lì dietro. Sì 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 certo, sono squadre che purtroppo anche noi stessi non abbiamo dimostrato il nostro valore e quindi rischiamo anche come noi e la Recanatese e altre squadre di fare i play-out, quindi perciò ho detto prima che bisogna fare più punti possibili per evitare queste situazioni negative, e quindi il giorno di ritorno è molto più difficile di quello di andata, ma secondo me noi abbiamo le carte per fare bene, per fare più punti e ora non perdere la continuità che abbiamo lasciato in queste partite precedenti e niente, speriamo di iniziare bene il nuovo anno e arrivare a play-off che è un obiettivo nostro di tutta la squadra. Uno sguardo all'indietro, secondo te quale è stato il punto più basso della stagione? Ti do due possibilità tra la partita interna contro il Chiedi persa 4-0 e la settimana nella quale sono emigrati tanti giocatori via da Campobasso che culminò con la partita di Giulianova nella quale sinceramente vi vidi un po' giù di corda. Ma diciamo sono state due situazioni difficili per il Campobasso, sicuramente la partita persa in causa 4-0 è una sconfitta brutta che taglia le gambe sia ai giocatori, alla società e ai stessi tifosi, quindi mentalmente ti abbatte. Poi è normale a dicembre si apre il mercato e ognuno fa le proprie valutazioni, tipo la società e i giocatori, quindi sono stati due momenti. Quindi il 4-0? Sì, sì, sicuramente quando uno va a scendere in campo e perde 4-0 è una bella botta, quindi sì.